CD Group è un'azienda italiana che si è specializzata negli anni nel settore della logistica conto terzi. I nostri settori di riferimento sono da sempre il cosmetico, il farmaceutico e l'abbigliamento. Settori che si prendono cura di attività e di prodotti di lusso e quindi che richiedono un'attenzione e una cura particolare. CD Group è un'azienda italiana che tiene molto alla qualità del servizio e alla qualità dei prodotti e delle spedizioni che approntiamo tutti i giorni nei nostri magazzini. Per questo è importante curare non solo la parte di sicurezza e di integrità del prodotto che viene consegnato ma anche il benessere delle persone che lavorano presso di noi e che manualmente approntano l'espedizione tutti i giorni. Questo è il motivo per cui CD Group ha scelto Storopac con le sue soluzioni biologiche, ecologiche e ergonomiche nel rispetto sia del pianeta sia delle persone che lavorano con noi per dare a tutti i clienti un servizio che sia efficace e sicuro per tutti. La scelta di affidarci a Storopac come operatore del settore è dovuta al fatto dei riscontri positivi che abbiamo ricevuto sul mercato da parte dei nostri clienti e dei competitors che già utilizzavano questo fornitore e abbiamo cercato un'ottimizzazione dei processi, abbiamo cercato di sviluppare insieme al fornitore tutta una serie di progetti che fino a quel momento non era stato possibile portare avanti. Stiamo utilizzando il sistema Air Plus e Paper Plus. Grazie al sistema Air Plus abbiamo costruito dei silos adeguati alle nostre esigenze che hanno reso il processo molto più veloce ed efficace. Il materiale che stiamo usando già adesso, il 50% è materiale riciclato. Per i clienti che hanno scelto il sistema Air Plus abbiamo dotato i carrelli degli operatori con una macchinetta che si chiama Sistema Papione e che rende più veloce e più pratico il riempimento delle nostre scatole. La realizzazione del sistema integrato è grazie al service di Storopac che è stato molto veloce e non ha impattato sulla cooperatività. Anche per stare a passo con il mercato come datronde richiesto dai nostri clienti, Fardis è sempre la ricerca di innovazioni e Storopac è stata un'innovazione che ha soddisfatto noi e i nostri clienti.